...che impone l'incompatibilità dei consiglieri e nominare due giorni prima un consigliere in un'epoca. Mi sembra che qualcosa non guarda. Vorrei chiedere a Pd se questa delibera ha un senso o magari può valutare... Abbiamo la nostra direttrice che è a Cigliata stasera. Era un mese che mancava, quasi, nei banchi di Palazzo Marino e tutti mi chiedevano dov'è, cosa è successo e io gli dicevo che era portare avanti il suo compito nelle sedi giuste e quindi la sera finalmente l'abbiamo con noi perché è ora di riprendere. Adesso vediamo cosa risponde l'assessore... Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.